E allora, a rallegrarci la giornata ci sono invece i vostri scatti che stanno fioccando al 331 737 8033. Stamattina vi abbiamo chiesto quali sono i libri che state leggendo, quelli che avete amato di più. Stanno arrivando un sacco di foto, vi siamo particolarmente grati per questo. Cristina di Mariano Comense ci ha inviato il libro che sta leggendo in questo momento che ci dice anche, le piace moltissimo, rimedi dai conventi per il corpo e per l'anima. Filosofia, regole di vita a tavola, tisane, la farmacia del Signore. Molto suggestivo in effetti, grazie Cristina. Poi abbiamo uno scatto panoramico che non fa mai male ed è Elena dalla Sardegna che ce lo invia. Grazie Elena per questo bel respiro di odio che ci regali. Poi Gabriella da Sannicandro di Bari, questo è il libro che sta leggendo lei, Fenomeni straordinari di Mistici e Santi a cura di Edizioni San Paolo di Paola Giovetti. Grazie Gabriella. Vita di Don Leone, un prete che ha conosciuto anche Padre Pio e invece il libro che segue, è appunto la biografia, credo, di Don Leone. Fermatevi con me, non leggo chi ci ha mandato lo scatto, ma siamo comunque molto grati. Continuate a farci sapere che libri state leggendo. Noi invece ci colleghiamo adesso con Francesco Condolucci, giornalista e organizzatore di In & Out Festival, giunto alla sua seconda edizione dal 17 al 19 maggio a Milano. Buongiorno Francesco, ben trovato. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a te per la disponibilità. Come stai? Tutto bene? C'è ancora tanta pioggia a Milano? Abbiamo sentito che nelle ultime ore ci volevano quasi gli stivali per scendere in strada. Sì, 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 c'è tanta pioggia, ma fortunatamente è tutto sotto controllo. A Piazza Città di Lombardia si sta lavorando, ci sono già tanti gazebo, ci sono già tante persone che stanno arrivando, per cui non ci ferma neanche la pioggia, saremo domani, saremo lì a parlare di inclusione, a parlare di autismo e a condividere questo momento con tutti i nostri ospiti, con i nostri relatori e con tutte le famiglie, tutte le persone che vorranno venire a In & Out a cercare risposte, a porre domande e a trovare, speriamo, spunti e analisi che possano aiutarli. Intanto molto accattivante anche la grafica sulla quale abbiamo letto cos'è In & Out, quindi ecco, magari puoi introdurci a questo bellissimo festival. Ti chiederei di posizionare il telefono in modalità orizzontale, così magari possiamo vederti anche a tutto schermo, sperando... Eccoti, eccoti, per cui facci entrare dentro questa tre giorni di dibattiti, di momenti aggregativi che appunto ci fanno più consapevoli sui temi dell'inclusione e dell'autismo. Allora, faccio una rapidissima sintesi. In & Out nasce da un'analisi personale, una professionale e una condivisione. L'analisi personale, la riflessione personale... Ti abbiamo perso per qualche istante, probabilmente... Spinto a... Mi sentite? Sì, adesso sì, ecco ti... Mi sentite? Forte e chiaro. Dicevo, la mia... La prima è stata una riflessione personale. Sono papà di un bambino autistico che oggi ha sette anni ed è lui la molla che mi ha spinto a impegnarmi su questo versante, nella consapevolezza che voglio mettere a disposizione di tutte le famiglie e di tutti i bambini come Gianmarco e che magari hanno meno possibilità di lui di avere risposte e di avere supporto, voglio mettere a disposizione le mie competenze e le mie relazioni proprio per poterli aiutare. Quindi il primo, diciamo, il primo input da cui nasce In-E-Out è questo. Il secondo è un'analisi professionale. Sono giornalista, lavoro da qualche anno anche per le istituzioni e quindi mi sono reso conto che più che mai l'autismo e tutto il mondo attorno alle famiglie, alle associazioni, ha bisogno di portare fuori i messaggi, le istanze, i bisogni. Ha un pubblico sempre più trasversale, sempre più eterogeneo e soprattutto ha bisogno di attivare un dialogo interistituzionale per poter trovare risposte che vanno dal punto di vista sociosanitario a quello scientifico, a quello politico, a quello socioassistenziale. Il terzo passaggio è stato condividere queste prime riflessioni con delle persone che mi hanno aiutato, che mi aiutano, che sono i miei amici. Uno è il senatore Comincini, che è l'autore della legge sugli esgravi fiscali e contributivi per le imprese sociali che assumono ragazzi autistici, persone autistiche. E poi Samantha Lentini e Danilo Risi che ci hanno dato una mano dal punto di vista organizzativo. Per cui con il senatore Comincini abbiamo condiviso qualche anno fa in Senato questo tipo di riflessioni e abbiamo deciso di impegnarci e costruire un festival. Quindi il festival era l'idea di trasmettere il messaggio a un pubblico trasversale, cioè con un approccio multidisciplinare che portasse nello stesso posto la politica, le istituzioni, le strutture scientifiche, le associazioni, le persone autistiche, gli artisti, il mondo e la cultura. Cioè tutti a confrontarsi per capire come si può lavorare assieme appunto per favorire l'inclusione delle persone autistiche nella società e nel mondo del lavoro. Il festival inizia... Questo è in e out. Grazie, grazie Francesco. Festival che inizia domani e dura per tutta la lunghezza del weekend. Abbiamo visto anche l'indirizzo al sito web dove sicuramente il programma ricco e articolato del festival sarà appunto stato pubblicato in maniera da poter scegliere anche quello che si vuol fare anche in relazione ai propri impegni. L'accesso è libero e gratuito? Assolutamente sì, anzi, siamo molto felici, saremo molto felici di ospitare il maggior numero di persone possibili, di genitori, di persone autistiche, di famiglie, di associazioni, di tutte le persone che hanno bisogno e voglia di ascoltare quello che dicevo, analisi, riflessioni, dialoghi, ma anche ascoltare le storie di vita delle persone autistiche che parteciperanno al festival, delle loro esperienze sia da un punto di vista positivo dell'inclusione nel mondo del lavoro, quindi le best practice di tutte le aziende che hanno assunto ragazze e persone adulte autistiche e le hanno accolte nelle loro realtà, ma anche ascoltare i bisogni di famiglie e di persone autistiche e di dirigenti che magari porranno delle criticità a cui noi vogliamo dare ascolto e che vogliamo porre sui tavoli istituzionali. Quindi venite tutti, seguite tutti in streaming dal sito, poneteci domande, noi siamo una scatola che vuole ospitare e valorizzare tutte le esperienze che si occupano di autismo in Italia. È un festival inclusivo, è un festival di tutti, non è il mio e non è dell'associazione In-Out, noi siamo soltanto i promotori. Per il resto il festival appartiene a tutte le persone che ruotano il mondo dell'autismo e che convivono con l'autismo 365 giorni all'anno e che non possiamo lasciare indietro e che non possiamo soprattutto pensare di ascoltarli soltanto per tre giorni. Questo è un festival che vuole lanciare dei progetti che andranno avanti in futuro e andranno avanti tutto l'anno con delle ricadute concrete. Ecco allora riempiamola questa bellissima e coloratissima scatola con la nostra partecipazione in maniera tale da essere anche più consapevoli sui temi trattati. Francesco tu sei anche consigliere per la comunicazione del ministro delle riforme istituzionali e della semplificazione normativa. A questo proposito volevo chiederti se per quella che è la tua esperienza dal mondo delle istituzioni c'è più attenzione rispetto ai temi di cui appunto si dibatte nel festival. Ecco se possiamo dire che con il tempo la burocrazia sta avvenendo un po' meno o ti senti ancora un po' incartato dalla dimensione burocratica? A che punto siamo nei palazzi ecco rispetto a queste tematiche così importanti a volte verso le quali bisognerebbe avere la possibilità di ottenere risposte urgenti diciamo? Allora c'è ancora tanto lavoro da fare non c'è dubbio purtroppo il mondo della disabilità e delle fragilità in generale non parlo solo di autismo ovviamente. E' un mondo che ancora fa fatica a ottenere risposte. Oggi tra l'altro mi dispiace doverlo sottolineare però non posso non farlo da papà, da genitore. Oggi si parla tanto di tanti diritti, si parla molto poco dei diritti dei disabili. Noi vogliamo appunto anche insomma porre questa attenzione, questa necessità di inserire nelle tante battaglie che oggi si fanno per i diritti anche quelli dei disabili. Dal punto di vista istituzionale io da addetto ai lavori visto insomma che sono consigliere del ministro per la semplificazione posso dire che il ministro, il mio ministro, il ministro Casellati assieme al ministro della disabilità stanno lavorando da qualche mese per la stesura di un codice unico della disabilità che dovrebbe semplificare tutte le normative che afferiscono a questo mondo per cercare appunto di dare risposte più veloci, di dare più efficienza ed efficacia all'azione della pubblica amministrazione. Tra l'altro sarà il ministro Casellati a parlarne al festival e a breve ci sarà nelle prossime settimane anche una conferenza stampa a Roma sul tema. Per cui io credo che si sta lavorando. Ovviamente non è possibile pensare che vista la complessità delle norme, vista anche insomma il numero, in Italia ci sono circa 5 milioni di persone con disabilità, che sia facile riuscire a trovare un modo per dare risposte a tutti. Però io credo che il modo migliore per farlo sia dialogare, sia condividere quelle che sono le istanze e magari porre anche insomma delle soluzioni. Invece io vedo, e questo è un altro tema che porremo al festival, che su questi temi che dovrebbero sempre unire e mai dividere, ci sono tanti personalismi, ci sono tante divisioni, c'è tanta autoreferenzialità. In e out vorrebbe cambiare la rotta, vorrebbe provare a far dialogare tutti. La cosa più bella che mi è stata detta rispetto a in e out nel 2022, alla prima edizione, è stata, sono state due, ve le cito perché sono secondo me molto significative. La prima è stata, avete fatto parlare mondi fra loro diversi. Ci avete fatto sedere allo stesso tavolo mondi che fra loro non si parlano mai. E questo è esattamente quello che noi vogliamo fare. La seconda cosa, molto più toccante e molto più emozionante per me, è stata quando alcune mamme, alla fine dei tre giorni della prima edizione del festival, sono venute e mi hanno stretto la mano e mi hanno detto grazie perché da oggi ci sentiamo meno soli. Credo che sia questo un po' il fine del festival. appunto cercare di far sedere tutti allo stesso tavolo. Siamo tutti i genitori, le associazioni, ma anche il mondo della politica. Siamo tutti sulla stessa barca, vorremmo tutti provare a cercare delle risposte e le risposte si trovano soltanto dialogando e mai dividendosi. Io chiedo davvero a tutti quelli che ascoltano e che fanno parte di questo mondo, sia le persone autistiche, le associazioni, i medici, la politica, di fare un passo indietro, rinunciare a volte delle posizioni che dividono e cercare il dialogo perché il nostro dovere è solo uno. Cercare davvero di non lasciare indietro nessuno. Mi piace citare Papa Francesco quando dice che nessuno si salva da solo. Ricordiamocelo sempre, nessuno si salva da solo, c'è bisogno dell'aiuto di tutti, c'è bisogno che tutti diano una mano. Noi chiediamo questo, dateci una mano, dateci una mano al festival, ognuno come può. E sono certo che proveremo a trovare delle risposte per tutti, perché tra l'altro il mondo dell'autismo è un mondo molto complesso dove davvero ogni persona autistica ha bisogno di una sua risposta. Il mondo dell'autismo non si può accontentare di risposte univoche perché ci sono 600-3000 casi in Italia e sono tutti casi che fanno storia a sé. Per cui per dare una risposta a ciascuna di queste persone c'è davvero bisogno dell'aiuto di tutti. Grazie Francesco, il tuo messaggio è risonato forte e chiaro ed è assolutamente condivisibile per cui siamo felici di averti ospitato a Just Today stamattina su Padre Pio TV che si associa all'invito a partecipare all'evento, a sedersi ai tavoli, al dialogo, alla partecipazione attiva per far sì che i disabili abbiano sempre più diritti e che tutti quanti noi possiamo fare anche nel nostro piccolo, come dicevi tu, un gesto che possa migliorare il mondo in cui viviamo. Per cui non ci resta che augurarti una magnifica edizione a te e a tutti quelli che parteciperanno di In & Out Festival da 17 al 19 maggio a Milano, quindi in questo fine settimana, piazza città di Lombardia, tutti quanti a lavoro per l'autismo. Grazie Francesco e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata, grazie. E noi magari ritroveremo Francesco fra qualche giorno, perché no, per sentire come è andata, perché insomma la sua passione stamattina ci ha coinvolto tutti, adesso invece ci tocca fermarci un attimo, ma ci ritroviamo subito insieme.